Bea, scusa. Romano. Posso dirti una cosa? È arrivato il colone, è arrivato. C'è qualcosa che non va? No, 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 anzi, è successa una cosa bella. E anche tu ne sarai felice, se mi vuoi bene. E sarebbe? Ricordi, ti dicevo, di sentire l'esigenza di allargare i miei orizzonti? Sì, a 360 gradi. Brava, appunto. Compiendo un giro di 360 gradi, sono tornato al principio. Cioè Daniela, la mia ex ragazza. E oggi è arrivata e ci siamo rimessi insieme. Ah! Io volevo ringraziarti di cuore per avermi aiutato in questa presa di coscienza. E ti è grata anche lei. Te la vorrei presentare, posso? Bea. Lei è Daniela. Lei è Daniela. E allora자! Ciao! Che vera! Grazie.